Qual è il ruolo di Annusca nel censimento permanente della popolazione? Annusca è l'associazione nazionale degli ufficiali di Stato civile Anagrafe con una storia oltre a trentennale e ha come soci più della metà dei comuni italiani e 8.000 dipendenti comunali. Quindi rappresenta proprio quelli che sono gli interessi, le esigenze, soprattutto formative degli operatori anagrafici. E quindi è chiaro che Annusca ha un ruolo fondamentale nella riuscita del censimento perché chiaramente ha il collegamento diretto con tutti gli operatori dei comunali. Quali sono le criticità e quali i vantaggi del censimento permanente della popolazione rispetto all'anagrafe? Prima di tutto bisogna dire che il valore aggiunto del censimento è la possibilità di avere un ruolo di aggiornamento dell'anagrafe e quindi contribuisse alla regolare tenuta dell'anagrafe. Naturalmente per fare questo bisogna studiare un sistema di confronto fra i risultati del censimento e la banca dati anagrafica. Non è facile perché il censimento permanente è strutturato in una maniera tale per cui non essendo un censimento su tutta la popolazione dovremmo confrontare dei dati parziali con dei dati invece quelli anagrafici che sono completamente corrispondenti a tutta la popolazione del comune. Però noi dobbiamo trovare un sistema che costituisca un circolo virtuoso nella tenuta dell'anagrafe da una parte e nella corretta funzione del censimento dall'altra.